salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video come ormai sapete perché ormai lo sapete tutti a fine aprile dovrebbe uscire salvo sorprese incredibili da parte di g il nuovo dji mini 3 questo super drone attesissimo drone a 249 grammi che va a sostituire quello che è un drone pazzesco cioè dji mini 2 questo nuovo drone di casa dji cioè appunto il dji mini 3 arriverà in due versioni due versioni una chiamiamola standard ed una pro quindi seguendo un po la filosofia di autel avremo una versione diciamo un po più base è una versione un po più spinta dal punto di vista delle caratteristiche si pensa che ovviamente la differenza sostanziale sarà nella videocamera in cui nella versione base dovremmo avere un sensore da mezzo pollice mentre nella versione pro avremo un sensore da un pollice e all'interno di queste due versioni avremo altre tre versioni per ogni versione si ragazzi sembra un gioco di parole ma è così praticamente avremo la possibilità di scegliere tra sei versioni di droni perché avremo tre versioni standard e tre versioni pro avremo la prima versione standard base che dovrebbe essere venduta senza controller quindi dovremmo avere noi controlli da associarli e presumo che controller accoppiabile a questo drone siano solo quelli del dji air 2s o quelli del mavic 3 o l'rc controller mentre quello del mini 2 non penso che sia compatibile perché questo drone userà il sistema ocu sync 3 a livello di connessione wifi quindi con una trasmissione ocu sync 3 gli unici droni attualmente in commercio che usano questa connessione sono air 2s mavic 3 o l'rc controller quindi suppongo che bisogna avere uno di questi controller quindi quello del mini 2 in teoria non dovrebbe andare bene come controller e il prezzo di questo drone è di 475 euro ma a questo prezzo poi suppongo che dobbiamo pure aggiungerci l'iva perché la nostra amatissima iva suppongo sia ad aggiungere al prezzo convertito dalla moneta cinese quindi nella conversione arriviamo a 475 euro ma poi con l'iva arriviamo a 579 euro nella versione base quella senza controller poi abbiamo una seconda versione standard dove avremo la borsa più tre batterie quindi avremo questa versione combo chiamiamola così che costerà 720 euro meno convertendo la moneta cinese in euro ma con l'aggiunta dell'iva andremo a 878 euro e poi avremo un'altra versione sempre standard che però ci darà la possibilità di avere direttamente nella confezione l'rc controller quindi questo controller con già display incorporato però il drone sarà sempre quello standard quindi avremo il drone standard con tre batterie la borsa lrc controller ed il prezzo convertendo la moneta cinese in euro è di 1.800 euro ma con l'aggiunta dell'iva andiamo a 1229 euro e adesso ragazzi entriamo nelle tre versioni pro quindi la versione pro senza controller questa versione pro che dovrebbe avere il sensore da un pollice che dovrebbe costare 619 euro con l'aggiunta dell'iva 755 euro poi una seconda versione pro quindi la versione combo con tre batterie e la borsa che dovrebbe costare 864 euro più l'aggiunta dell'iva dovremmo andare a spendere una cifra intorno ai 1054 euro e poi abbiamo la versione super top cioè la versione pro con tre batterie e la borsa e lrc controller questo controller con il display quindi questo controllo è davvero fantastico e qua ragazzi bisogna davvero svenarsi perché trasportando la moneta cinese in euro andiamo a spendere 1.152 euro ma poi con l'aggiunta dell'iva supponendo sempre che a questi prezzi dobbiamo aggiungersi l'iva ma suppongo di sì il prezzo finale sarà di 1.405 euro ovviamente qua il prezzo diventa davvero importante perché comunque l'rc controller fa la differenza di prezzo perché già lui costa davvero tanto quindi ragazzi queste sono tutte le versioni disponibili davvero c'è da sbizzarrirsi però chi ha già un r2s un mavic 3 o un rc controller potrà comprare la versione senza controller sia nella versione standard che nella versione pro e quindi risparmiare sulla spesa d'acquisto o altrimenti si può acquistare la versione chiamiamola così combo con il controller normale però per chi non ha problemi di spesa e vuole avere qualcosa di incredibile sicuramente sia nella versione standard che nella versione pro avere l'rc controller è tanta tanta roba perché questo drone sicuramente è un drone che saprà sfruttare benissimo questo controller quindi ragazzi queste sono le mie considerazioni e la mia opinione riguardante questo drone e i suoi prezzi perché secondo me almeno per il mio modesto parere poi fatemi sapere voi nei commenti cosa ne pensate a questi prezzi bisogna aggiungerci l'iva perché ce l'abbiamo e secondo me dal prezzo cinese l'iva va aggiunta e poi il discorso dei radiocomandi compatibili secondo me saranno solo quelli di air 2s mavic 3 o l'rc controller e spero però che chi acquista la versione con l'rc controller già nella confezione possa usare con l'rc controller con dgi air 2s spero che dgi non vada a limitare questa cosa perché comunque dgi in queste cose abbastanza particolari come si era visto poi con i visori che si trovavano nel dgi fpv che sarebbero dovuti diventare compatibili con air 2s perché comunque la possibilità a livello di compatibilità hardware c'era perché entrambi ocu sync 3 però poi dgi non l'ha voluto fare probabilmente per un discorso di marketing e speriamo che anche qua non venga limitata questa cosa perché magari è interessante acquistare la versione con l'rc controller e poi usare l'rc controller anche con il dgi air 2s o con il babic 3 quindi speriamo che dgi nella versione dell'rc controller che inserirà nelle confezioni di questo mini 3 non lo vada a limitare nella compatibilità con gli altri suoi droni che usano l'ocu sync 3 e poi come considerazione finale direi che i prezzi saranno in linea un po più cari rispetto a quelli di autel quindi dgi ai così come ha copiato la filosofia di fare due versioni di droni quindi la versione standard versione pro anche i prezzi secondo me saranno molto in linea almeno guardandoli così se calcoliamo l'iva sarà pure qualcosina in più rispetto ad autel veramente questi droni 249 grammi stanno raggiungendo prezzi davvero davvero pazzeschi pazzeschi sì i droni sono altrettanto pazzeschi per quello che ci viene dato in 249 grammi però sono sempre dei piccoli droni che paghiamo davvero davvero tanto secondo me forse un pochino troppo quindi ragazzi scrivetemi voi nei commenti la vostra opinione scrivetemi voi cosa ne pensate di questi prezzi se secondo voi l'iva va aggiunta o meno cosa ne pensate di questi prezzi che stanno raggiungendo questi droni 249 grammi quindi fatemi sapere tutto quello che pensate riguardante l'uscita del nuovo dj mini 3 e cosa ne pensate anche del paragone con auto e il nano sia versione pro che versione standard sia come prezzo come caratteristiche dicendo fatemi sapere tutto qui sotto quindi ragazzi se questo mio video in cui vi ho portato questa mia opinione mie considerazioni riguardante questo nuovo dj mini 3 e i suoi prezzi la sua compatibilità con i radiocomandi vi è piaciuto e vi è stato utile ricettami un grosso pollice su seguitemi su instagram dove porto tante novitate prime voli in fpv stampe 3d tantissime cose arrivano su instagram quindi vi invito a seguirmi anche lì sempre se vi va ragazzi iscrivetevi al mio canale telegram offerte per sostenere questo canale dove posto tantissimi coupon sconto riguardante i droni e la tecnologia in generale ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale youtube per non perdervi neanche un video un volo una recensione un test tutorial novità ciao e al prossimo video